Buongiorno a tutti, Palacanestro Reggiana è una società storica a livello nazionale, Palacanestro Reggiana è una società presente da oltre 40 anni, con una forte tradizione che è la Lega Reggio Emilia e al territorio reggiano. Palacanestro Reggiana, oltre ad essere una società in crescita, è uno strumento di aggregazione, un punto di riferimento, un punto di incontro per numerosi cittadini, un punto di riferimento, un punto di incontro per i giovani e per le famiglie, aiuta a creare coesione e diciamo che tutti questi ingredienti valorizzano un'intera comunità che è la comunità reggiana. Noi come Banca Popolare dell'Emilia Romagna siamo impegnati in diverse attività, in diverse iniziative dedicate ai giovani e alle famiglie e questo legame, questa partnership con Palacanestro Reggiana ci è persa un'ottima occasione per darne un'ulteriore conferma. Banca Popolare dell'Emilia Romagna sarà main sponsor del camp estivo 2015 che Palacanestro Reggiana organizzerà Castelnuovo, Monti e Cervia. Li rilascieremo una carta prepagata Pay Up Wheel of Sport dotata di IBAN, completamente gratuita e personalizzata, con logo Palacanestro Reggiana e l'immagine di Riccardo Cervi, peraltro atleta e ragazzo nato a Reggio Emilia, cresciuto nelle giovanili di Palacanestro Reggiana che oggi conta oltre 20 presenze in nazionale. Rilascieremo questa carta prepagata a tutti i ragazzi e tutte le ragazze di età superiore di 11 anni che parteciperanno al Basket Camp 2015. Ma sottolineo è una carta che può essere richiesta da tutti i simpatizzanti, da tutti i tifosi della squadra, da tutti i tifosi cittadini che ne faranno richiesta attraverso la nostra rete di sportelli dislocata sull'intera provincia. Aggiungo che questa carta prepagata Pay Up Wheel of Sport prevede la retrocessione di contributi a favore della Palacanestro Reggiana, contributi che possono essere utilizzati dalla società per scopi benefici o per attività sociali. Noi come Banca Popolare delle Miglia Romagna, e concludo, siamo una banca presente con 39 filiali dislocate sull'intera provincia di Reggio Emilia, una peraltro a Castelnuovo Monti, come Banca Popolare delle Miglia Romagna, vogliamo continuare a dare segnali di forte presenza sul territorio.